Bene, parliamo ora degli strumenti attuativi del PRG così come previsti dalla legge regionale 1 del 2015 della regione Umbria. Stiamo parlando della pianificazione attuativa, quindi degli strumenti che permettono di attuare il PRG, cioè dare concretezza alle previsioni del piano regolatore. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che i piani possono essere di tre tipi. Di iniziativa pubblica, cioè se promossi dai soggetti pubblici, in questo caso particolarmente dal comune. Di iniziativa privata, se promossi da soggetti privati che si consorziano tra di loro, nel caso sono più di uno. Oppure di iniziativa mista, se sono promossi da tutti e due soggetti sopra elencati. Allora, premetto che in questa presentazione tutto quello che vedete in eretto sono le parole chiave che permettono un pochino di memorizzare meglio i vari passaggi di tutto quello che dirò. Allora, intanto, prima cosa, che cosa riguarda i piani attuativi? Allora, riguardano sicuramente gli interventi di dettaglio del PRG. Vi faccio un esempio, io ho un comune con una zona, diciamo così, già edificata, dove il piano regolatore prevede alcune cose. Una zona edificata che riguarda una parte, insomma, del comune, più o meno ampia. Ecco, il piano attuativo di iniziativa pubblica dovrà andare a prevedere nel dettaglio che cosa fare nelle varie zone. Un esempio classico è, che ne so, la zona di via Tuderte di Arniscalo, che è una zona edificata, dove ci sono innanzitutto tantissimi proprietari. Per questo c'è bisogno anche di un piano di iniziativa pubblica, perché sarebbe impossibile far accordare tra di loro tutti i proprietari. Allora, in questo caso c'è un piano di iniziativa pubblica che va nel dettaglio delle previsioni del PRG. Poi diciamo che il piano di iniziativa pubblica riguarda anche altri tre, diciamo così, settori e argomenti particolari. Uno è quello dell'edilizia residenziale pubblica, quindi delle case economiche popolari, degli alloggi di carattere economico popolare. Uno che riguarda gli insediamenti produttivi e un altro che riguarda gli insediamenti produttivi e i servizi dismessi. Questo è un tema che è sempre più presente nelle nostre città e anche in Umbria. Ci sono sempre aree, pensate a Terni, ma anche a Narni, aree che in passato erano aree industriali che adesso sono dismesse. Allora, in questi casi, questi tre casi, edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, insediamenti produttivi dismessi, il piano attuativo normalmente è di iniziativa pubblica. Allora, invece il piano è attuativo di iniziativa privata o mista. Intanto che cosa riguarda? Facciamo un esempio. Le famose lottizzazioni, cioè che sono normalmente nei bordi dei centri abitati, quindi in zone che spesso sono zone di campagna, dove il piano regolatore magari prevede una lottizzazione, quindi la possibilità di realizzare una serie di edifici, case a schiera o quello che sia. Allora, in questo caso normalmente, intanto i proprietari non sono molti, a differenza di quello che avviene nei centri abitati. Quindi in questo caso i proprietari potrebbero accordarsi per presentare un piano attuativo, quindi che rispetta chiaramente le previsioni del PRG, di natura privata. Allora, chi lo può fare? Allora, devono essere almeno il 51%, i proprietari di almeno il 51% del valore catastale degli immobili. Importante è questa cosa del valore catastale, per quale motivo? Quindi non i proprietari del 51% delle superfici di proprietà della zona interessata, ma del valore catastale. Questo vuol dire che spesso se anche c'è un piccolo edificio, ecco, il proprietario di quel piccolo edificio pesa molto più degli altri, in quanto ha un valore catastale maggiore, quindi occhio a questa cosa. Quando ci sono almeno il 51% dei proprietari che sono d'accordo, si può presentare una proposta di piano attuativo. Va bene? E' chiaro che questa proposta deve prevedere la sistemazione complessiva delle aree. Cioè che cosa vuol dire? Che in questa area in cui è previsto il piano attuativo, chi realizza il piano attuativo potrà realizzare non solamente i vari edifici previsti, diciamo così, negli otti, ma anche strade, parcheggi e tutto quello che è previsto all'interno di questa area. Quindi il piano dovrà prevedere tutto. Allora, come si attua questo? Con una convenzione urbanistica. Che cos'è una convenzione? E' un atto che i privati stipulano con il comune, magari poi questo lo rivedremo meglio successivamente, in cui viene appunto normato, stabilito, quello che ho appena detto, cioè la realizzazione delle strade, dei parcheggi, del verde. E quindi nel caso in cui queste vengono realizzate dai privati, come spesso avviene, anche il meccanismo per, diciamo così, scomputarlo dagli oneri di urbanizzazione, che è, diciamo, quello che normalmente si paga, no? Per realizzare un'opera. Chiaro che se è un contributo per realizzare i servizi pubblici, è chiaro che se i servizi pubblici li realizzo io, ecco, chiaramente non dovrò più pagare quella parte, oppure, diciamo, in parte pagherò di meno. Ecco, tutto questo viene, diciamo, regolato con una convenzione urbanistica che deve essere stipulata tra i privati e il comune. Allora, abbiamo detto, il 51% del valore cadastrale degli immobili proprietari possono presentare un piano. Se non si arriva a questo valore del 51%, ma siamo almeno al 35% dei proprietari, si può presentare una proposta di attuazione e chiedere di fatto al comune di provvedere lui, in qualità di soggetto pubblico, quindi in questo caso potrebbe essere anche un piano di iniziativa misto oppure un piano di iniziativa direttamente pubblica, a chiedere appunto al comune, visto che c'è un, diciamo, consistente numero di proprietari che sono interessati alla realizzazione, all'attuazione di quanto previsto dal PRG, possono appunto presentare una proposta di attuazione e quindi chiedere al comune di provvedere lui. L'adozione, come funziona l'adozione e l'approvazione di un piano attuativo? Anche in questo caso si parla di adozione, quindi non ci sarà mai l'approvazione diretta, ma ci sarà sempre un'attuazione. Allora, viene presentato il piano. Allora, come vedete da questa slide, il SUAPE, Sportello Unito alle Attività Produttive, che in ogni comune c'è, ha il compito di gestire, diciamo così, la procedura. Allora, io intanto posso chiedere al SUAPE, prima di presentare il progetto, di fare una istruttoria preliminare, che vuol dire un esame insieme al SUAPE per vedere se tutti gli elaborati sono rispondenti a quanto previsto dal PRG. Una volta che l'ho presentato questo piano, il SUAPE, nel caso in cui accerta l'incompletezza di quello che ho presentato, dichiara con un atto l'irricevibilità della domanda, cioè significa che viene di fatto rifiutata per incompletezza. Dopodiché, se invece questo non avviene, il SUAPE acquisisce, quando servono, gli altri pareri. Faccio un esempio. Io sto in una zona di tutela ambientale, dovrò chiedere un parere alla sovrintendenza ai beni ambientali. Se nell'interno della mia area c'è, che ne so, un edificio storico di valore, la sovrintendenza per i beni archeologici, così via. Ci possono essere pareri dell'ASL, insomma, i vari pareri che possono essere necessari per la zona dove io sto, diciamo così, proponendo le norme attuative. Quindi acquisisco tutti questi pareri. Dopodiché, il piano viene adottato dal comune. Poi nella slide successiva vedremo meglio il passaggio tra l'adozione e l'approvazione. Entro 60 giorni. La legge regionale cerca di dare dei tempi certi per evitare che questi procedimenti siano procedimenti che durano un tempo indefinito. Quindi diciamo che entro 60 giorni il piano deve essere adottato. Quindi il SUAPE può, diciamo così, chiedere altri pareri, chiedere integrazioni, ma ha 60 giorni di tempo. Questo termine 60 giorni può essere sospeso una sola volta per richiedere documentazione integrativa. Cioè, il SUAPE ha accettato il piano che io ho presentato, però magari è carente per qualche documentazione, per qualche elaborato. Allora mi può chiedere di integrarlo. In questo caso i 60 giorni vengono interrotti. Però questa cosa il SUAPE la può fare una volta sola, perché sennò potrebbe essere una cosa. Ogni due giorni vengono chieste integrazioni, il tempo diventa infinito. Quindi il SUAPE può farlo soltanto una volta. Allora, vediamo un attimo bene il processo di adozione e di approvazione. Come sempre, abbiamo detto, l'adozione c'è prima dell'approvazione per permettere una fase di partecipazione. Questo vale per tutti gli strumenti urbanistici. La partecipazione, l'adozione, cioè quella fase che permette ai soggetti interessati di presentare osservazioni e opposizioni al piano, questa fase è tra l'adozione e l'approvazione. Allora, intanto l'adozione e l'approvazione viene fatto tutto dall'aggiunta comuna. Non c'è bisogno di nessun parere di livello superiore semplicemente per il fatto che si sta attuando il piano regolatore che è stato già approvato. Quindi il piano attuativo non può cambiare quello che il piano regolatore prevede. Allora, dopo l'adozione, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo a 15 giorni di tempo, perché il piano adottato viene pubblicato nel Burr. Chiunque può prendere visione delle osservazioni e delle opposizioni presentate, faccio un esempio, in questo caso si parla anche di opposizioni, per salvaguardare la mia proprietà posso andare a discapito dalla proprietà del mio vicino. Allora, io presento la mia opposizione rivendicando quello che voglio rivendicare. Il mio vicino ha diritto però di sapere io che cosa ho chiesto per vedere se questo, diciamo così, lede i suoi interessi. Quindi chiunque può prendere visione di queste opposizioni e nei dieci giorni successivi c'è il tempo per presentare delle repliche. Cioè io ho visto che il mio vicino, faccio un esempio stupido, ha presentato un'opposizione chiedendo delle cose che a me non vanno bene, ho dieci giorni per presentare delle repliche e dire guarda lui ha presentato questo però io non sono d'accordo per questi motivi oppure quello che lui ha presentato va a inficiare la mia proprietà, insomma va a danneggiare la mia proprietà. Tutte queste opposizioni, osservazioni, come sempre, devono essere esaminate e quindi devono essere valutate dall'amministrazione comunale. Una volta fatto questo il piano attuativo viene approvato e viene trasmesso alla Regione che lo pubblica sul Burr, bollettino ufficiale della Regione e quindi diventa da quel momento vigente. Quanto vale un piano attuativo? Ecco questo è importante. Noi abbiamo sempre detto che i piani regolatori di livello, il piano regolatore quindi i piani in generale fino al livello superiore a quello esecutivo hanno una validità diciamo indefinita o meglio valgono fino a quando non ne viene fatto un altro. Invece un piano attuativo perché va anche a vincolare le singole proprietà e perché va a attuare un piano di previsioni più generali ha un termine specifico che non deve essere superiore a dieci anni. Entro i dieci anni il piano deve essere attuato. Se non è quello che non è stato attuato il piano in ogni caso decade per cui da quel momento in poi per poter attuare il piano regolatore servirà un nuovo piano attuativo. Grazie per l'attenzione.